Benvenuti e benvenute, sono Greenvanship, nonno episodio di Cubeway. Allora, sto cercando di recuperare terreno con questo videogame, perché come vi dicevo nell'episodio precedente, l'avevo accantonato un pochino. Eravamo arrivati qui, la grotta. Eccolo lì, io mi aspettavo la finta. No, no, cosa c'è qua? Corri, corri, corri. Cosa ho fatto? No! Quasi, quasi. Comunque il principio l'ho capito. Mamma mia, che cose brutte vedo. No! Eh, vabbè. E2. Aspetta, concentrazione. No! Torna indietro. Aspetta, eh, vabbè. 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 Cosa ho fatto? Aspetta un attimo. Vai, vai, vai. Vai. Fermo. No, 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 va benissimo, va benissimo. Concluso. Finito. Basta, fine. Semplice. Semplice. E lineare. La grotta. Illumina il regno della tua mente. Ci sono tante cose nascoste lì. Sfrutta, sfruttate il vostro potenziale, in pratica. Sfruttatelo. La trappola. Beh, questa in effetti sembra una trappola. Sono già morto due volte. Aspetta, fermo. Ma dovete proprio... Non ve lo aspettavate, vero? Vero? E invece... Non riesco... No, vabbè. Per poco. Aspetta. Vai, fermo. Vai. Ok. Ma quanto... Allora. Così. Torna indietro. Vai. Torna indietro. Vai. Torna indietro. Vai. Veloce, veloce. Torna indietro. Vai, 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 vai. E ormai hanno finito. Vai, 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 vai. Benissimo. Bene, bene. No, 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 no. Eh, me lo aspettavo. Me lo aspettavo. Ce l'abbiamo fatta. La trappola. Utile, ma pericoloso. Beh, è una trappola. Il grot. Cosa vuol dire il grot? Sono qui che sto cercando di... Farmi un'idea cosa ho fatto. Cos'è successo? Ah, ma guarda. Succedono cose. No, vabbè. Che roba è? Vabbè, vabbè, vabbè. Allora ditelo. È impossibile. Dai, dai. Caricalo benissimo. Adesso aspetta perché ci cascano in testa queste cose. Come faccio a schivarle, a schivare anche i colpi io? Eh, mamma mia. Mamma mia, cosa ho fatto? Basta però, ragazzi, basta. Quanti ne cadono? Ah, ma qui c'è un altro punto. Aspetta, aspetta. Oh, meno male. È stata difficile. Ah, la grotta. La grotta. Siamo dentro la grotta. Va bene. E nel posto più appartato, sotto gli strati della paura e del dubbio, non ho capito cosa dovrei... Tranne Gollum, ecco. Gollum, là dentro ce lo avrei visto bene. Comunque, qui è una cosa pazzesca perché ho già capito che faremo fatica. Da che parte vado? Qua. No, 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 no. Eh, ho sbagliato. Aspetta. Vai. Vai, 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 vai. Aspetta. Fermo, fermo. Adesso no. Aspetta, no. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Aspetta. Vai, vai, vai. No, ero andato nella direzione sbagliata. Ora. Fermo. L'ho schivato. Vai. Cos'ho schivato non lo so nemmeno io. Eh, ti pareva. Va bene. Fermo. Ok. Adesso qua... Dovevo essere coordinato con i due cerchi. E ok, fin qui. Per un soffio. Per un soffio. Niente. Vai, 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 vai. Bene. Ce l'ho fatta. Fermi adesso. Fermi, eh. Fermi. Come faccio a essere vivo? Non lo so. Cosa succede? Fermo. Fermo. Benissimo. Bene. Non fate domande. Va bene così. Città subacquea. Puoi trovare la città perduta della tua vera essenza. Eh, va bene. Sott'acqua devo andare. Spero di no. L'aereo. Ma che roba è questa? Mamma mia per un... Pelo. È difficilissimo. Cioè... Ti sballa il ritmo. Sto cercando di andare a tempo, no? Però non ci riesco. È difficile. Niente da fare. Bene. 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 Niente domande. Accettiamo il risultato e va bene così. L'aereo. Quello ti aiuterà a rompere le catene e a venire fuori dal guscio. Ok. Allora ragazzi, per oggi possiamo anche fermarci qui. Grazie per avermi seguito. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale. Mettetemi un bel mi piace. Commentate e condividete. In basso nella descrizione trovate i link ai social. Se non volete perdere nessun video, cliccate sulla campanella, mi raccomando. Noi ci vediamo prossimamente con nuovi video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!